E' da quella parte. Unione Sovietica avrà piacere di amnistiare vostro sottomarino indisciplinato. Unione Sovietica? Ma non si era disciolta? Sì, è questo che volevamo farvi credere. Devo distruggere capitalismo, tovarischi! Spider Pork, Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla test e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.